Che fai? C'era la piccola, ma non c'era la piccola, ma non c'era la piccola. Beh, lì, non siete neanche buoni a tirare le palle da neve. Ecco, figurati se la femmina non vi beccava. Se io ne ho fatti un marmota, si usciva la maledetta. Mi scano, non c'era la mamma. Ma che cosa che ho fatto? Se io mi ho afferrato una pezza, mi spaccavo il video, non devi spaccare la mamma. Eh, dai, dai. E' una bella ci stupido, guarda. In i cinganni, forse. Eh. Allora, sono a sé. Ma io, ma io... Ma io, io... E io, ma io, giù. E io, giù. E io, giù. Andiamo a prendere il colpettino. Brian dei ghiacci. Ma questa chi è? Questa chi è? Andiamo a Pia, prima ho come. No, no, no. Non lo andiamo a me. E andiamo a prendere il colpettino. Brian dei ghiacci. Ma questa chi è? Questa chi è? E va! No, zambami, vai! No, zambami, vai! Buttala da staccare! Oddio! Aaaaah! Suicidio proprio! Vai, non buttala! Dai, c'è, c'è, via! No, me ne va... Aaaaah! Ce scesibilo! Aaaaah! Aaaaah! C'è c'è, suicibrineu! Aaaaaah! Seeắc abbiamo appare! No's possible! Agiaoc怎麼辦! Ho la sua coté! Ho la cestina! TÜbilir di dover ad essere amo, Eandra! Aaaaaaah! Grazie a tutti.